Quarta e conclusiva prova dell'Unione Internazionale d'Italia, ovvero il campionato italiano Stadere, con la quale si concluderà non solo la stagione agonistica della Vota 4 domingo, ma l'intera stagione agonistica per quanto naturalmente riguarda lo steduo è di casa nostra. Allora, quarta e conclusiva prova di un campionato che ha preso la via a Giavra di Montello il 5 aprile scorso, si è gareggiata poi gara 2 a Terenzano del 17 luglio e la settimana successiva del 24 luglio si è corso su questa pista la gara numero 3. Quarta e conclusiva prova dell'Unione Internazionale d'Italia, il posto di nuovo qua la controlla, la condizione provviene da Nel8, l'arpuntino in Cervar, il signor Someno, la coppia a Dura, formata dal Zona San Serena, la coppia a Dura. Un'unica di fatto che si è iniziato a Dura, un'altra parte di 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 un'altra parte. Allora, Casagno e Maida, Cervar, Chiambole, prima batteria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti.